Tutto bene? La commedia? Niente di nuovo che potesse irritare o frastornare gli spettatori. È congeniata con bell'industria di affetti. Un gran prelato tra i personaggi, una rossa eminenza che ospita in casa una cognata vedova e povera, di cui in gioventù, prima di avviarsi per la carriera ecclesiastica, era stato innamorato. Una figliola della vedova già in età da marito che in sua eminenza vorrebbe far sposare a un giovine suo protetto, apparentemente figlio di un suo vecchio segretario, ma in realtà, insomma via, un certo antico trascorso di gioventù che non si potrebbe ora riproverare a un gran prelato con quella durezza che deriverebbe necessariamente dalla brevità di un riassunto, quando poi è per così dire il fulcro di tutto il secondo atto. Tutto bene, tutto bene, insomma, gli attori tutti a posto e innamorati a uno a uno della loro parte. Anche la piccola Gastina, sì sì, contentissima, contentissima della parte della nipote orfana e povera che naturalmente non vuole saperne di sposare quel protetto di sua eminenza e fa certe scene di fiera ribellione che alla piccola Gastina piacevano tanto perché se ne riprometteva un suvisso di applausi. Per farla breve, più contento di così e dell'aspettazione ansiosa di un ottimo successo per la sua nuova commedia, l'amico Faustino Perres non poteva essere alla vigilia della rappresentazione, ma c'era un pipistrello, un maledetto pipistrello che ogni sera in quella stagione di prosa alla nostra rena nazionale o entrava dalle aperture del tetto a pavilione o si testava una certa ora dal nido che doveva aver fatto lassù, tra le brattature di ferro, le camicchie, le chiamate, o si poteva svolazzar come impazzito, non già per l'enorme vaso dell'arena sulla testa degli spettatori, ma qua, dove le luci delle quinte, le luci della ribalta, le luci di scena, insomma, lo attiravano proprio in faccia di attore. La piccola Gastina ne aveva un pazzo terrore. Dio, che riprenza! Dannato pipistrello! Signorina Gastina, abbia pazienza! Pazienza! Pazienza, dice! Sono stata tre volte per svenirele nel vedermelo passare rasente al volto, davanti agli occhi, sui capelli, l'ultima volta! Dio, che schifo! Sfioraroni la bocca con quel volo di membrana vischiusa che strade! L'hanno cricato per miracolo! Sfioraroni la ragione di Gastina, noi abbiamo le prove che il pipistrello non entra da fuori, ma si è abitato nelle travature del teatro. Magari, signore, potremmo far salire sul titolo due, tre, quattro operai, ma magari a mie spese per scopare... Ma signor Pelle, se lei che dice, è matto! Se non trovate il modo di cacciar via quella bestia, io, io, non risponderò delle mie azioni! Io adesso sono stufo! 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 La smetta con queste sciocchezze! Sciocchezze! I miei capelli! I capelli, i capelli? Sì! E mi hanno dato a intendere che se per caso le sbatte in capo il pipistrello ha nelle ali non so che viscosità, per cui non si riesce a districarli se non tagliando i capelli! Appunto! Appunto! Anziché preoccuparsi nella parte, immedesimarsi nel personaggio, almeno fino al punto di non pensare a simili sciocchezze, ecco! Ma come si permette? Come si permette? Allora, caro il mio capoconico, visto che non mi considero un'attrice, lei è un regista incapace di qualsiasi soluzione! Al diavolo! Signor Perez, pensavo, visto che il nostro capoconico è incapace di pensare, che una soluzione forse ci sarebbe! E quale, signorina? Beh, per esempio, è la battuta di sua eminenza nel secondo atto, Giuseppe, smorzate i luni! Potrebbe essere ripetuta qualche altra volta durante la rappresentazione, visto e considerato che non c'è altro mezzo per far uscire un pipistrello che si è entrato di sera in una stanza, che spegner un lume! Signorina, è lei scherzi? No! Dico proprio sul serio, perché scusate... Beh, beh, beh... Perez, volete con la vostra commedia dare una perfetta illusione di realtà? No, perché dice, illusione, signorina, è l'arte, crea veramente una realtà! Bellissimo! E allora io vi dico che l'arte la crea e il pipistrello la distrugge! Come? Perché? Perché sì! Ponete il caso che in una scena della vita reale, in una stanza dove si stia svolgendo di sera, un conflitto familiare tra marito e moglie, tra madre e figlia, entri per caso un pipistrello. Bene, che accade? Le assicuro io che per un momento il conflitto si interrompe e avviene quel pipistrello che è entrato, o si spegne un lume o si va in un'altra stanza, o qualcuno prende un bastone per abbatterlo! E gli altri allora, credete a me, si sbordano del conflitto e accorrono a guardare tutti sorridenti e con schifo, come quella odiosissima bestia sia fatta! Ma questo nella vita ordinaria, io nella mia opera d'arte, il pipistrello non ce l'ho messo! Voi non ce l'avete messo! Ma se lui ci si ficca! Bisogna non farne caso! Oh, mi sembra naturale! Vi assicuro io, io, che nella vostra commedia devo vivere Livia, che questo non è naturale, perché Livia, io lo so, io lo so meglio di voi, ha paura dei pipistrelli! La vostra Livia, badate, mica io! E voi non ci avete pensato, perché non potevate immaginare il caso che il pipistrello entrasse in quella scena mentre ella si ribellava fieramente all'imposizione della madre e di sua eminenza! Ma questa sera potete essere certo che il pipistrello entrerà in quella stanza e allora io vi domando per la realtà stessa che volete rappresentare se vi sembri naturale che ella, con la paura che ha dei pipistrelli, col ribrezzo che la fa contorgere e gridare al solo pensiero di un possibile contento! Se restia lì come se nonna fosse con un pipistrello che le sbatte in capo! Voi scherzate, vero? Livia se ne scappa! Livia pianta la scena! E se ne scappa! O si nasconde sotto un tavolino! Gridate come una mazza! Vi consiglio perciò di riflettere, se non vi convenga meglio di far ripetere a sua eminenza la battuta del secondo atto, Giuseppe, smorzate lui! Ma no, no! Aspettate! Ma sì, sì, sì! Invece sarebbe una liberazione se gli ordinesse di prendere un bastone, montare su una stigiole… Certo, interrompendo la scena a metà fra l'ilarità pregolosa di tutto il buco… Ma sarebbe il colmo della naturalezza, credetelo! Anche per la vostra stessa commedia, visto che il pipistrello in quella scena, vogliate o non vogliate, ci si ficca! Pipistrello vero! Se non ne tenete conto, per raffinta o per forza, Lidia che non se ne cura e gli altri due che seguitano a recitare come se lui non ci fosse… Non capite questo! Si intende, se lei vuole scherzare… No! Sto discutendo sul serio! Proprio sul serio! E allora io le rispondo che lei è matta! Dovrebbe far parte della realtà che ho creato io? Quel pipistrello! Perché io possa tenerne conto e per chi possa farne tener conto anche ai personaggi della mia commedia! Perché dovrebbe essere un pipistrello finto e non vero, insomma! Non può un elemento della realtà casuale introdursi così da un momento all'altro nella realtà creata, essenziale dell'opera d'arte! E se si introduce… Ma non è vero, non può… non si introduce mica nella mia commedia, si introduce al massimo sul palcoscenico dove voi state recitando… Benissimo! Dove io recito la vostra commedia… Allora state due… O qui sul palco… Evviva la vostra commedia… O evvivo il pipistrello… Il pipistrello… Evvivo! Vivissimo comunque! Conclusione… Ovviva la vostra commedia… Ovviva il pipistrello! Se stimate impossibile cacciar via quella bestia, Perres, rimettetevi in Dio quanto alle sorti della vostra commedia… Ora vi dimostro che la mia parte io la so e che la recito con tutto l'impegno perché mi piace… Ma non risponderò da minervi questa sera! Oh! Ogni scrittore, quando è un vero scrittore, ancor che sia mediocre… Per chi sta ad osservarlo in un momento come quello in cui si trovava Faustino la sera della prima… Fa questo di commovente… O anche se si vuole… Di ridicolo… Che si lascia prendere lui stesso prima di tutti da ciò che ha scritto… E piange… E ride… Atteggi il volto dalle varie sborfie degli attori sulla scena… Con respiro affrettato… E l'animo sospirante… Che gli far zè… Or questa… O quella male… In atto di parare… O di sostenere… Posso assicurarvi… Che per tutto il primo atto e parte del secondo… Faustino non pensò affatto al pipistrello… Tanto era immedesimato nella sua commedia… E non è a dire che non ci pensava… Perché il pipistrello non aveva fatto ancora la sua consueta comparsa… No! Non ci pensava… Perché non ci poteva pensare… Cominciò a pensarci solo quando le sorti della commedia… Non per colpa del pipistrello… Non per la pressione degli attori a causa di esso… Ma per difetti evidenti della commedia stessa… Cominciarono a volgere a male… Già il primo atto a dire la verità… Non aveva riscosso che pochi e tepidi applausi… La gastina faceva la sua entrata dall'equilibrio di rinvento… E il Perez, mirandola come affascinato… Tremava tutto… Il pipistrello girava intorno al lampadario… Che guindeva con otto globi di luce… E la gastina… Non mostrava da accorgersene… Lusingata certo dal gran silenzio d'attesa… Con cui il pubblico aveva accorto il suo comparire sulla scena… E la scena… Seguitava in quel silenzio… Ma che evidentemente… Piaceva… Ah! Se quel pipistrello non ci fosse stato… Ma c'era, c'era… Non se ne accorgeva il pubblico… Tutto intento a guardare lo spettacolo… Ma eccolo lì… Oh! Eccolo lì… Come se a fermo apposta… Avesse preso di mira… La gastina… Ora proprio lei… Poverina… Che faceva di tutto… Per salvare le sorti della commedia… Resistendo al suo terrore… Di punto in punto crescente… Per la persecuzione… Ostinata… Veroce… Della maledettissima bestia… A un tratto… Faustino Perez… Vide l'abisso… Spalancarnisi davanti agli occhi… E si recorreva nel bordo… A un grido improvviso… A un disco… Della gastina… Che si abbandonava… Tra le braccia di sua evidenza… Furono pronti… A trascinarsi la via… Nessuno… Nel subbuglio del primo momento… Qua sul palcoscenico… Pote capire… Quello che intanto accadeva… Nella sala del teatro… Sudiva… Come un gran frastuono… Lontano… A cui nessuno badava… Frastuono… No… 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 Non era un frastuono… Erano… Applausi… Sì… Applausi… Era un delirio di applausi… Tutto il pubblico levato in piedi… Applaudiva freneticamente… E voleva l'autore… Gli attori… Al proscenio… Per decretare un trionfo… A quella scena dello svenimento… Che aveva preso proprio sul serio… Come se fosse nella realtà… E che aveva visto rappresentare… Con così prodigiosa verità… Fuori la gastina… Fuori la gastina… Fuori la gastina… Ma come far presentare la gastina… Che nel camerino… Si ribatteva… In una tierissima convulsione di nervi… Tra la costernazione… Di quanti stavano lì… A soccorrerla… Il capocomico… Si fece a proscenio… Ad annunziare… Dolentissimo… Che l'acclamata attrice… Non poteva presentarsi a ringraziare… L'eletto pubblico… Perché quella scena… Vissuta con tanta intensità… Le aveva cagionato… Un improvviso valore… Per cui… La rappresentazione… Quella sera… Doveva essere purtroppo… Interrotta… Ci si domanda a questo punto… Se quel dannato pipistrello… Poteva rendere a Faustino Perres… Un servizio peggiore di questo… Sarebbe stato in un certo modo… Un conforto… Attribuire adesso… La caduta dello spettacolo… Ma dovergli ora… Il trionfo… Un trionfo che non aveva… Altro sostegno… Che nel pazzo volo… Di quelle ali schifose… Ha visto Perres… Ha visto Perres… Che ha successo… Bisogna trovare una soluzione… Per domani sera… E come… 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 Lei domanda a me… Come… Se quello sperimento… Nella commedia… Non c'è… Non c'è… Comendatore… E io domani non voglio… Non voglio perdere questo successo… Perché domani mattina… Tutti i giornali… Ne parleranno… Eh… Non dubiti… Non dubiti… I migliori… Sapranno far per finta… Con la stessa verità… Ciò che questa sera… L'hanno fatto… Senza volerlo… Sì… Ma lei capisce… Questa sera… È andato tutto così bene… Perché dopo lo svenire… Ma… È giusto… Questo è il rimedio… Che lei deve trovare… Perres… Giusto questo… E… E come… Come… Lo volete capire… Che qui… È il pipistrello… Che lo deve dire… E non voi… Cari signori… E lei… La smetta… Col pipistrello… Io… Sì… Lei… La smetto… Io… Deve smetterla… Lei… Commendatore… Perché guardi… Ragioniamo… Io… Posso avere sotto comando… Un… 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 Non sversimento… Finto… Se il signor… Perres… Seguendo il suo consiglio… Ce lo mette… Ma dovreste anche aver voi… Sotto controllo… All'un pipistrello… Vero… Che non mi procuri… Un altro… Svedimento… Non finto… Ma vero… Nel primo otto… Nel terzo… Magari… Nel secondo stesso… Subito… Dopo… Quel primo… Vi prego… Vi prego di credere… Cari signori… Che veramente… Mi… Sono stenuta… Del vedermelo arrivare in faccia… Quo… 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 Ha solo boccia… E domani sera… Io… Non recito… No… Non recito… Commendatore… Perché… Né lei… Né altri… Possono obbligarmi a recitare… Con un pipistrello… Che mi sbatte in capo… Si scosti… Ma… Oh no… Venga qua… Si metterà questo… Si metterà… Ma Faustino Perres… Convinto pienamente… Che la ragione unica degli applausi di quella sera… Era stata l'intrusione improvvisa… Violenta… Di un elemento casuale… Che invece di mandare… Gambe all'aria… Come avrebbe dovuto… La tensione dell'arco… Si era miracolosamente inserita in essa… Conferendole… Lì per lì… Nell'illusione del pubblico… L'evidenza di una prodigiosa verità… Ritirò la sua commedia… E non se ne parlò più…